ciao ragazzi bentornati sul canale benvenuti a tutti in questo nuovo video oggi ci troviamo al bivacco pian delle stelle raggiungibile con una breve ma simpatica ferrata chiamata sas de roccia che parte dalla frazione di ronc vicino a rocca pietore da qua si ha una vista spettacolare su averà un uvolau pelmo civetta col di lana lagazzuoi c'è una meraviglia una meraviglia e ora vi mostro come siamo arrivati fino a qua ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le prime firme sul libro dal bivacco risalgono al 2012 e il libro è ancora quello, quindi veramente è poco frequentato e forse anche questo è un po' il motivo per cui è ancora così ben tenuto e così ben conservato. Che meraviglia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In tutto è una camminata che veramente impiegherà una mezz'oretta per arrivare dalla macchina al bivacco. ferratina semplice non presenta particolari difficoltà a parte qualche punto in qualche staffa che può mettere un po' a disagio magari visto che ogni tanto buttano un po' in fuori ma consigliata a tutti soprattutto anche per iniziare. noi abbiamo fatto come riscaldamento così per una domenica pomeriggio in attesa delle ferrate un po' più impegnative. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!